Presentazione ad Ortona del progetto Mobilitiamoci, un progetto che vede insieme lo Yacht Ortona Welcome, il comune di Ortona, l'Anfas, Green Road, PMG, Aspasso Bike, un progetto dove si parla di turismo accessibile. Ma in cosa consiste questo progetto Francesca Di Tonno dello Yacht Ortona Welcome? Mobilitiamoci, un progetto per il turismo accessibile che abbiamo proposto come Yacht Ortona Welcome all'amministrazione e ai partner del territorio. Oggi lanciamo una raccolta fondi che andrà avanti per alcune settimane e che porterà all'acquisto di mezzi per il turismo accessibile anche diversamente abili che potranno quindi scoprire le bellezze architettoniche e naturalistiche della città di Ortona. Tutto questo è reso possibile grazie alla collaborazione tra diversi attori e ha un unico scopo, quello di far conoscere le bellezze del nostro territorio senza limiti. Sindacolo Castiglione, Ortona è una città aperta, un turismo per tutti. Turismo per tutti, così come dovrebbe essere ovunque. Noi stiamo investendo molto sulla mobilità ciclabile e quindi questa iniziativa si inserisce pienamente all'interno di questa progettualità che vede coinvolta non solo l'amministrazione ma anche le realtà private, associative. E questa ne è la dimostrazione. Quando si uniscono le forze i risultati sono questi. Un grande esempio sia a livello sociale ma proprio per promuovere la mobilità ciclabile su cui noi stiamo investendo molto sia a livello ambientale ma proprio per promuovere la bellezza del nostro territorio, della nostra città che offre, si presta molto a questa mobilità.